Associazioni abruzzesi a tutela dei consumatori, tutte unite contro il contratto di servizio stipulato tra Regione Abruzzo e Trenitalia. Un accordo senza coinvolgimento dei diretti interessati, pendolari, ACU, ARCO, ADOC, Codici, Codacons, Conf Consumatori, Contribuenti Italiani, Guardia Civica, Adiconsum, Movimento Difesa del Cittadino e Cittadinanza Attiva. Queste le associazioni in campo contro modifiche delle percorrenze, dei tempi, il rincaro dei biglietti, tutti i motivi per i quali è stato presentato un ricorso al TAR. Contestiamo la violazione della legge sui contratti di servizio, una legge del 2008, che prevede che quando si stipula un contratto di servizio si debbano coinvolgere le associazioni dei consumatori per individuare gli standard di qualità di questi contratti di servizio e per controllare questi standard di qualità in modo che vengano rispettati. Se così fosse stato, questi inconvenienti sugli orari non ci sarebbero stati e noi potremmo discutere, come diceva lei, a un tavolo tutte le questioni che riguardano il servizio e anche quali sono i livelli di qualità, di sicurezza, i tempi eccetera. La regione ha deciso di non coinvolgerci e noi abbiamo deciso di fare ricorso al TAR per annullare il contratto di servizio. Intanto qui il servizio dei treni è complessivamente, in Abruzzo è sottovalutato, non so se per fare un favore è il servizio su gomma o no, sa di fatto che potrebbe essere razionalizzato e potrebbe funzionare molto meglio. Poi ci sono i problemi appunto di orari, hanno deciso che i treni debbano fermarsi a Pescara e la gente debba cambiare treno in molti casi. Insomma sono scelte che non si sa se sono dettate da una strategia precisa o da una sciatteria o da una non conoscenza dei problemi.